buonasera a tutti ragazzi ben ritrovati dal vostro bombe il nero azzurro allora innanzitutto godo 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 come un porco altro che ricci e cazzi come un porco godo come un porco godo come un porco stasera inter napoli finisce 2 a 0 l'inter torna meritatamente secondo me dopo questo secondo tempo analizziamo bene comunque perché secondo me c'è tanto da analizzare il napoli ha fatto la sua partita cercava di ripartire sempre in contropiede e va bene fino a lì ci siamo è il loro gioco sappiamo che il napoli gioca specialmente sui contropiedi perché ha uomini sulle fasce estremamente veloci uomini tattici che tatticamente a centrocampo ti sanno smistare i palloni bene verso le punte gli esterni che si allargano per andare ai cross è stata una bella partita dove Andanovic ha salvato un paio d'occasioni è perché anche Andanovic stasera è stato protagonista della partita ragazzi è perché Samir se ogni volta non ci mette le sue pezze sarebbe finita in un altro modo come un portiere un po più scarso comunque ottima partita dei ragazzi perché è vinto grazie a una ottima prestazione dei ragazzi perché se no cazzo non vinci o se vinci vuol dire che hai fatto un'ottima prestazione è inutile che mi vengono a dire no ma il napoli sta meritando qui e là e ti sta meritando il napoli il portiere ha parato vuol dire che te hai sbagliato lascia perdere che ha fatto miracoli per dio cane hai sbagliato punto stop hai sbagliato l'inter è stata più cinica perché ne ha fatti due a parte un euro goal finalmente 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 un euro goal di Lautaro Martinez dalle 20 25 metri un siluro di destro all'angolino dove il meretto non può assolutamente rivale mezza papera anche del portiere è mezza paperella anche del portiere poi lì ci arriviamo comunque l'inter è andata lì è andata a Samir a fare la sua partita il napoli è venuto cercando di ripartire sempre in contropiede di andare ad affondare quei contropiedi cosa che non è riuscita perché avendo bastoni fisicamente messo bene devrai fisicamente messo bene poi ti entra un godin al sessantesimo e ti fa capire che te in segna di lì non passi perché te di lì non puoi passare se hai fatto tutto fino al sessantesimo correndo come un maiale potrei anche passare perché passerai un paio di volte però quello che quello che godin vince sono le più di quelle che tu passi sulle palle recuperate o perse comunque è stata un'ottima partita godo come un porco come ditto godo come un porco meno male c'era culibali è che doveva salvare il napoli stasera come sempre il culibali di serve magari un moment act qualcosa per un mal di testa perché stasera è stato veramente preso in giro dal da lukaku che appena prendeva palla si muoveva appoggiava riandava quindi non c'è stata storia neanche per culibali o è vero se ci fossero stati manolas e mertens sarebbe stata un'altra partita sarebbe stata anche quella un'altra partita però noi viviamo il momento siamo secondi andiamo a bergamo con la convinzione di essere secondi quindi abbiamo diciamo due due risultati su tre utili abbiamo due risultati su tre utili per confermare il secondo posto che l'inter secondo me merita di giocare insieme all'Atalanta invece che con altre squadre perché l'Atalanta sta facendo un campionato strepitoso anche se nelle ultime partite li va tutto bene perché li sta girando tutto bene nelle ultime partite perché vedo un po calata all'inizio di come era prima ma è anche normale perché i giocatori non hanno giocato da diverso tempo e quindi va bene così ragazzi io vi ringrazio vi saluto vi aspetto su instagram arena sportiva sia che b cioè dove venerdì parleremo di pisa frosinone partita molto molto importante anche quella che seguiremo poi ci arriviamo a venerdì poi ci arriviamo comunque ragazzi vi ringrazio a tutti quelli che sono stati live stasera mi raccomando iscrizione al canale ragazzi se volete gratis quindi lasciate anche un bel pollicione in su attivate la campanellina vi arriveranno tutte le notifiche quando andrò in live post per partita buonanotte ragazzi e niente ci vediamo venerdì con pisa e frosinone pisa buonanotte a tutti raga